Importante incontro presso lo scala aeroportuale di Comiso con il ministro per la coesione territoriale del Mezzogiorno Claudio De Vincenti, invitato dall'amministrazione comunale per parlare del futuro della Piola Torre, nel corso di un convegno organizzato appositamente per approfondire la possibilità di avere una piattaforma cargo proprio a Comiso. Durante l'incontro, dice l'onorario Di Pasquale, mi sono permesso di ringraziare il ministro perché nel patto per il sud sono state messe le risorse per la Ragusa Catania, per il museo di Camarina e per il parco Forza di Ispica, il depredatore di Scoglitti e la rete fognaria di Vittoria, l'assistemazione di alcune strade provinciali e altri importanti interventi per un totale di oltre 850 milioni di euro, dimostrazione dell'attenzione del governo nazionale nei confronti della Sicilia e del nostro territorio in particolare. Poi è stata affrontata la possibilità di rimodulare il patto per il sud e in quell'occasione poter inserire la prospettiva e utilizzare lo scalo Comisano come piattaforma cargo. Inoltre, ho chiesto a De Vincenti che in caso di rimodulazione del patto per il sud non si dovrà dimenticare degli altri due lotti della Siricosa Gela, cioè di arrivare da Modica fino a Vittoria e da lì fino a Gela. Si tratta di lotti che hanno già i progetti esecutivi che aspettano solo il finanziamento. L'importanza dell'aeroporto di Comis, ha detto il parlamentare del PD, è sicuramente primaria, ma prima ancora del cargo bisogna discutere del potenziamento delle linee, da e per lo più importanti città italiane ed europee. Il più la torre per ora funziona grazie anche alle risorse impegnate dalla regione siciliana, ma servono più voli, perché è questa la prima necessità di cui ha bisogno questa struttura e quindi il nostro territorio.